Buonasera ragazzi, ed eccoci qua con questa fantastica coppia, come sentite anche da Cazzone Sotto, vada, che li ha visti, sono bellissimi. Ciao, come ti chiami? Alexandra. E lui è? Pasquale. Benvenuti ragazzi, allora, vogliamo sapere da voi in assoluto cos'è che non vorrete rifare nel 2016 come proposto, che quest'anno l'avete fatto e dite no, non lo faccio più. Una cosa qualunque. Io non andrò più a iscrivermi in palestra, perché tanto è inutile, non la faccio. Allora, diciamo così, la ribaltiamo, l'anno prossimo non voglio più non andare in palestra. Brava! Proposto dell'anno nuovo, scritto, firmato, buono. Te invece? Anche un proposito, dai. Vorrei lavorare di meno l'anno prossimo. Bravo, ci piace, hai capito Renzi? Io direi, lavorare di meno, però guadagnare di più. E andare in ferie di più. Va bene. Perfetto ragazzi, allora noi vi facciamo tanti auguri, vi auguriamo una buona e presevole serata e salutiamo anche noi. Abbiamo fatto tanti chilometri per venire qua. Ma dove siete? Napoli. Napoli. Davvero? Caspita, complimenti, allora speriamo di essere all'altezza che si avalcia la pena. Faccio un po' di teli anche. Guarda, è già solo per i dolci. Hai visto? Ma quali sono ornamentali o si mangiano? No, no, dopo si mangiano. Alle dieci e mezza ti riesco i teli e via, si mangia tuttissimo. Va bene, ciao ragazzi. Ciao, vizio casa pure. Ciao. Ciao. Ciao.